È successo caro gentleman, sono diventato famoso, doveva succedere prima o poi. Ora tu dirai, Mauri non ti montare la testa solo perché è un canale YouTube e ti conoscono un po' su Facebook, ora non fare il figo. E invece no caro amico mio, mi hanno visto su canale 5, sono finito in TV. E tu ti chiederai, ma come in TV? Figurati, vuoi vedere? Guarda qua. Ebbene sì caro gentleman, sono finito vittima di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada nella trasmissione Striscia la Notizia di Antonio Ricci. I due mi hanno messo nella rubrica Face the Cool, una rubrica nella quale i videomaker di Striscia la Notizia montano ad hoc dei video presi sul web per ridicolizzare quelli che sono i personaggi appunto di questi video. E questa volta è capitato al sottoscritto. Mi sono ritrovato in prima serata su canale 5 a Striscia la Notizia. Ebbene sì, a Striscia la Notizia. Ero a casa mia che stavo facendo tutt'altro, stavo lavorando a dei nuovi progetti che abbiamo in cantiere in casa Gentlemind e a un certo punto sento il cellulare che letteralmente esplode. Messaggi, notifiche, vibrazioni, qualsiasi cosa. Telefonate. Ho ricevuto una tempesta di messaggi. Ho preso il cellulare credendo ci fosse qualcosa di pericoloso, un attacco alieno o qualcosa del genere e invece mi mandavano le foto dicendomi sei in televisione, sei in televisione di qua, ti hanno visto a Striscia eccetera eccetera. E io non sapendo nulla di tutto questo sono caduto dalle nuvole. Il bello di questi messaggi è che alcuni erano gasatissimi ed altri preoccupatissimi. Mauri ti hanno preso in giro a Striscia, ti hanno reso ridicolo davanti a tutta l'Italia. E io ho pensato a quello che è il mio lavoro, quello che faccio tutti i giorni e ho ragionato su che cosa potessero aver mai trovato di così compromettente sul mio lavoro. Dopotutto faccio il mio lavoro con grande etica e con grande professionalità. E ho scoperto che di fatto hanno preso una mia sponsorizzata, l'hanno montata prendendo dei punti in cui faccio un po' ovviamente un po' lo sbruffone per attirare l'attenzione perché chi mi conosce e mi segue sa perfettamente che non sono assolutamente così e di fatto quando faccio quel tipo di pubblicità lo faccio per attirare l'attenzione e prendere in giro un certo tipo di guru della seduzione che si credono dei super uomini. Chi mi conosce e mi segue da un po' sa che sono il primo che si prende in giro, che fa il pirla in ogni situazione e in ogni modo possibile, mostrando la verità e nient'altro che la verità. Ebbene, quelli di Striscia hanno fatto questo servizio per cercare di screditarmi in qualche modo, per cercare di rendere ridicolo quello che faccio e ridicolizzare la mia persona e il mio personaggio. Invece hanno sortito l'effetto contrario. Perché? Perché sono contento del fatto che abbiano fatto questo video? Perché io sono quello che vedo in questo schermo. Sì, ho il cappellino, come dice Vanessa Incontrada. È vero, mi vesto in maniera molto elegante, molto eccentrica. È vero, ma tutto questo lo faccio a uno scopo ben preciso, ovvero quello di polarizzare l'attenzione. E hanno seguito esattamente quello che è il mio piano, ovvero quello di attirare l'attenzione in maniera assolutamente diretta e andando a polarizzare, quindi a creare due pubblici molto definiti. Uno di un pubblico che ti adora e il pubblico che comunque non ti segue e ti critica. Questa è una delle basi, dei concetti sociali, delle dinamiche sociali che vado ad insegnare regolarmente. E hanno fatto esattamente il mio gioco perché io sono felice di creare questa sensazione negli altri e soprattutto voglio attirare l'attenzione in modo che le persone si informino sul mio conto e capiscano davvero chi sono e capiscano effettivamente che cosa facciamo noi di Gentlemind e quanta etica, quanto duro lavoro e quanto amore mettiamo nel nostro lavoro. Quindi rispondo a tutte quelle persone che erano preoccupate dal possibile danno d'immagine che questo servizio che ho trovato anche poco sensato perché di fatto mi hanno solo preso in giro, non sono entrati giustamente nel merito di quello che dico perché non avrebbero avuto appigli. Io e tutto il mio staff facciamo il nostro lavoro con grande etica. Non promettiamo cose impossibili, facciamo quello che c'è da fare per aiutare le persone e dare il meglio ai nostri corsisti. Quindi cari amici di Striscia, mi dispiace ma questa volta il tapiro va a voi. Ciao Ale! Ciao Vane! Ciao Antonio!